Imparare a vivere in ambienti difficili avendo a disposizione solo lo stretto necessario, capire quanto sia importante collaborare con gli altri per rendere più agevole la convivenza. Con queste finalità l'Associazione dei Volontari della Protezione Civile Don Nicola Canzona di Castelpetroso ha organizzato un campo scuola su Monte Patalecchia. Tanto l'entusiasmo da parte dei ragazzi di età compresa tra gli 11 e 17 anni, protagonisti di un'esperienza unica. Dopo aver allestito il campo montando le tende, attrezzando cucine, bagne e docce, hanno cominciato a seguire le varie lezioni, a partire da quelle di primo soccorso con il personale del 118 e di Isernia Soccorso. Grazie alla collaborazione dei comandi provinciali, dei vigili del fuoco e del corpo forestale di Isernia, si è inoltre parlato di prevenzione di pratiche antincendio, mentre con i cani dell'Associazione Autieri di Pesco Pennataro è stata simulata la ricerca di una persona scomparsa. Gli uomini del soccorso alpino hanno poi illustrato le tecniche di soccorso in montagna. Con i radio amatori si è invece parlato di telecomunicazioni, soprattutto nei casi di emergenza. Insomma, una preparazione completa, quella offerta dai volontari della protezione civile di Castelpetroso, che ha permesso ai ragazzi di vivere giornate divertenti e indimenticabili, ma soprattutto utili. Quanto appreso in questi giorni su Monte Patalecchia, compresa la gestione delle pulizie del campo e la raccolta dei rifiuti, potrà sempre tornare utile in futuro.